Pochi giorni fa in Napoli ha ufficializzato l'addio a Kim Min-jae, difensore centrale sudcoreano, protagonista, uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dell'ultima stagione, culminata con lo scudetto vinto dalla squadra allenata da Luciano Spalletti e l'uscita di Kim verso il Bayern Monaco, che ha pagato la clausola recessore del centrale sudcoreano, apre una voragine in difesa che Napoli dovrà prontamente sostituire sul mercato. Un Napoli che però si è trovato di punto in bianco nelle scorse settimane, prima senza allenatore, visto l'addio concordato tra De Laurentiis e Luciano Spalletti, che ha portato dopo due anni il mister Di Certaldo a lasciare la panchina a partenopea, e poi senza il Deus Ex Machina, che ha costruito la squadra dello scudetto, Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus dove ha assunto ruolo. Di direttore sportivo, e quindi De Laurentiis ha dovuto prima operare dei cambiamenti alla base, tanto che oggi, praticamente arrivati a fine luglio, il mercato in entrata del Napoli non è ancora partito. La prima cosa è stata ovviamente cercare un nuovo allenatore. Un paio di settimane fa c'è stata la presentazione di Rudy Garcia, un profilo che sinceramente non mi aspettavo, perché pensavo che il Napoli potesse andare su un nome differente, anche se devo dire che il ritorno in Italia di Garcia mi stuzzica abbastanza. Certo, bisogna vedere che cosa potrà portare in dote, visto che comunque la carriera del francese sembrava in discesa dopo che per trovare un ingaggio era dovuto addirittura andare in Arabia Saudita, all'Alnat, squadra attualmente di Cristiano Ronaldo. Garcia nella sua presentazione ha detto che, ringraziando Spalletti, ha detto che comunque lui ha accettato il progetto Napoli perché ci crede e che la squadra non verrà indebolita ma semmai rafforzata dopo la campagna acquisti estiva. Al momento però tutto tace, se non appunto per una perdita molto importante come quella di Kim, che dovrebbe, secondo le voci di mercato, dovrebbe essere sostituito da Kevin Danso, difensore centrale austriaco del LAN, che ha giocato una stagione strepitosa lo scorso anno aiutando il LAN a qualificarsi per la Champions League, ma al momento sono solo voci e Danso è uno dei tanti nomi della margherita sfogliata per sistemare il pacchetto difensivo. Un mercato fermo con tante incognite perché Napoli ha due calciatori che sono attenzionati praticamente da tutta Europa e soprattutto dalla Premier League. Svizzas-Varashkelia, l'esterno georgiano, uno degli MVP della scorsa stagione, e Victor Ozyman. Non è detto che partano ma già poterli confermare, viste le attenzioni che hanno catalizzato entrambi, sarebbe già un grande successo. Il problema è che non bastano, perché Napoli ha bisogno di puntellare la rosa, non solo con un difensore centrale che possa fare il titolare, ma anche con tante operazioni di contorno che permettano a Garcia di avere una rosa profonda, sia a livello numerico che qualitativo. Tuttavia, va detto che la struttura è solida, sia dal punto di vista tecnico che tattico, perché una volta trovato il sostituto di Kim, in Napoli ha lo stesso 11 titolare dello scorso anno. Qui subentreranno le motivazioni. La squadra è ancora sul pezzo, avrà la pancia piena dopo aver vinto lo scudetto. Purtroppo questo potrà dircelo soltanto il campo, e Garcia dovrà essere molto, molto bravo a tenere la barra dritta. Detto questo, sono anche convinto che Napoli qualcosina farà. Bisogna capire quanti soldi potranno permettersi al netto di altre cessioni. Sappiamo che ci sono giocatori che hanno offerto comunque interessamenti anche da squadre di media fascia, come per esempio Irving Lozano, piuttosto che Sieninski, quest'ultimo pare cercato insistentemente dalla Lazio, ma è chiaro che alle loro eventuali uscite andrà messo a posto rimedio con delle entrate almeno di ugual valore. E quindi i tempi che si allungano non giocano a favore del Napoli, soprattutto perché il Milan si sta rinforzando molto bene, perché l'Inter è competitiva e perché la Juventus, per le cifre spese, per il Montengaggi e per il fatto che il prossimo anno di fatto giocherà soltanto una competizione, sono squadre molto, molto competitive. Se a queste aggiungiamo la Roma e la Lazio, che comunque cercheranno di fare loro, pur avendo degli impegni molto importanti durante la settimana, ecco che Napoli non potrà presentarsi prendendo la sfida di riconfermarsi troppo sotto gamma. Sarà molto complicato, soprattutto se le dinamiche di mercato e non solo dovessero rimanere queste. Chi può risolverle? Soltanto De Laurentiis, che adesso deve mettersi sotto per aiutare il nuovo direttore sportivo Meluso dal punto di vista economico a poter operare in entrata e di conseguenza consegnare a Garzia i rinforzi richiesti e funzionali per poter confermare la squadra ai vertici della Serie A.